lucazzu lucazzu romelu stuccazzu ma una domanda a tutti gli andi juvendini eh mo voglio fare una domanda a tutti gli andi juvendini ma chi è lini è ancora quel giocatore maiale scorretto cesso che si deve infortunare che una merda non è un esempio per i giovani o all'improvviso è diventato un mostro fatemi capire un po come funziona adesso chiellini cos'è è un mostro o un giocatore scorretto un maiale che non dovrebbe nemmeno calcare i campi di calcio come dice qualche fallito giornalista ve l'ho sempre detto che lucaco è un giocatore sopravvalutato e ci sono tanti giuventini di merda ci sono tanti giuventini di merda che addirittura hanno detto che lucaco è più decisivo di cristiano ronaldo lucaco non serve un cazzo se l'ho marcato ho capito no che uno che ha 29 anni che cazzo ha fatto in carriera sto lucaco che cazzo ha fatto in carriera sto lucaco che solo all'interno hanno carriato quest'anno voglio vedere l'anno prossimo l'anno prossimo fa la metà dei golli che ha fatto quest'anno perché ormai l'hanno capito tutti basta marcarlo non male se tu ci metti un difensore che non sa marcare lui fisicamente è forte ma basta ci metti un difensore buono chiellini sono tre partite che mi fa tuccare la palla quindi continuate a dire che lucaco è più decisivo di ronaldo no ma io lo cambio io qualcuno addirittura ha detto no io venderei ronaldo mi prenderei lucaco perché lucaco è un ariete ci serve fa gol ma che cazzo fa gol oggi a parte ricorda che cazzo di partita fa si ha smagnato col senza portiere si ha smagnato quello è un buon giocatore e basta tra lui e immobile non so chi è più scarsa tu cessi immobile oggi mamma ma come cazzo cioè io mi vero vista nazionale come fa andare avanti non ha un centravanti buono immobile belotto questo centravanti quelli là comunque non è che io sto qui a perché voi sapete io come la penso sulla questione nazionale a me l'italia non mi emoziona dal 2006 continuo a non emozionarmi certo non ci tifo contro però io l'ultimo gol che ho risultato è quello di faraoni contro il verona quindi però sono qui a parlare di lucaco quello che tutti quanti è lucaco lucaco e io quando io vi dicevo lucaco basta che lo marcano non si fa niente quello perché c'era un fallo sull'autaro cosa devo ricordare su chiellini lucaco faceva la doppietta chiellini lo ferma in modo scorretto stasera pure in modo scorretto la frenata fate manco pallone come sta fa quindi quando io dico le cose difficilmente sbaglio se dico che lucaco è un buon attaccante ma buono come i vari che ne so ma lucaco lo possiamo paragonare vi ricordate voi a cosa come cazzo si chiama a bentner quando giocava nell'arsenal quello lo parla ancora voi pensate ma voi ancora voi pensate che cazzo è sto lucaco a manchester è stato quanti anni che ha fatto manchester nemmeno in champions league si qualificava lucaco è un buon attaccante è come uno matri quando giocava a cagliari che sembrava chissà che cazzo è oppure che ne so ma non mi viene in mente nessuno noi a quinta va quello quello lo parla di lucaco ancora voi pensate che quello che lucaco è più forte di a quinta è che quello che quest'anno c'ha avuto tutto che gli ha girato a fortuna poi andate a vedere quanti con la culo con il difensore che sbaglia nel retropassaggio lo mandano in contropiede è normale quello fisicamente non lo puoi contrastare ma non è niente di che quelli juventini ma io che addirittura lo campionato lucaco è più decisivo di ronaldo ma che cazzo stite dice ma che cazzo stite dice comunque luca ancora può tornare a fare il fenomeno a milano e voglio che qualche andi juventino mi viene a rispondere sotto a questo video ma chiellini oggi è sempre un giocatore scorretto all'improvviso è diventato un fenomeno ciao grazie a tutti grazie a tutti